Nino Castiglia, candidato sindaco per Massafra. Castiglia, illustriamo il programma, i punti nevralgici del programma, quelli che in caso di elezione saranno i punti di riferimento, le linee conduttrici dell'operato amministrativo. In primis ho voluto che si realizzasse o comunque potessimo mettere insieme delle idee realizzabili, cioè un programma concreto, reale, non è un libro dei sogni, sappiamo dove c'è bisogno di un intervento più concreto, più incisivo e dunque abbiamo individuato sicuramente almeno tre priorità che riguardano sicuramente la qualità della vita, la sostenibilità ambientale, ma soprattutto il rilancio del centro storico e l'organizzazione degli uffici comunali. Ecco, questi quattro elementi fanno sì, sappiamo che lì le criticità sono più forti, ma il rilancio del centro storico rappresenta per noi la grande scommessa economica e che poi possa essere lo slancio relativo alla qualità della vita che ognuno di noi in una città vuole, una nuova viabilità. Teniamo molto alla qualità della vita che speriamo possa sopperire ad altri problemi, posti di lavoro e tanto altro che puoi immaginare. Ecco, rispetto all'amministrazione uscente, in cosa intendete, come dire, invertire la rotta? Ho sempre improverato a questa amministrazione il fatto che non abbia mai legato con la città, non ha mai creato un feeling, è sempre stata molto distante dalla realtà, da loro, dai cittadini, dagli ultimi, dai più deboli. Questa distanza ha creato un divario incolmabile perché loro si sono chiusi negli uffici comunali per cinque anni non tenendo conto della reale necessità di una città che sta soffrendo. Pensiamo anche alla pandemia, a quello che abbiamo dovuto noi sopportare. Poi una visione della città che non ha mai avuto un progetto, questo sindaco, non ha mai avuto una visione reale. Ha navigato a vista, ha fatto una discreta e a volte pessima, ordinaria amministrazione. Ecco, è lì il punto cruciale, lì che ci giochiamo la partita un po' tutti, dimostrare che qualcuno abbia una visione, che sa in che direzione vuole andare.